Per il quarto anno di seguito noi possiamo parlare di una timida, incerta, ma comunque ripresa dell'economia. Non ci consente ancora di colmare i divari molto importanti e molto pesanti di questa regione rispetto al resto della nazione e che ci fa pensare, quando rappresentiamo la situazione regionale, quasi di essere, possiamo dirlo, in un altro paese. Quella presentata dal direttore della filiale della Banca d'Italia di Catanzaro è l'immagine di un'economia calabrese che stenta a decollare. Nonostante una timida ripresa negli ultimi quattro anni, in tutti i comparti la Calabria è sempre molto lontana dai dati delle altre regioni. Ci sono però punti di forza che vengono evidenziati nell'ultimo rapporto calabrese di Banca Italia, primo fra tutti le esportazioni che mantengono un trend di crescita anche se con un impatto troppo modesto sul PIL regionale. E poi ci sono i servizi, tra questi brilla certamente la situazione nel turismo, che anche per quest'anno ha raggiunto performance molto importanti soprattutto per la qualità offerta. Una ripresa viene rilevata anche per le aziende e per la qualità del credito. La crescita dell'occupazione proviene solo dal lavoro autonomo, mentre nel lavoro dipendente il ricorso ai contratti temporanei ha rallentato, senza però generare un aumento dei contratti a tempo indeterminato. Questi divari, come dicevamo, sono importanti, importanti e particolarmente penalizzanti per questa regione perché impattano soprattutto sulla situazione economica dell'occupazione. Sono divari che possono tradursi in due grandi indicazioni appunto, la minore produttività e la maggiore disoccupazione. Disoccupazione che colpisce soprattutto due segmenti molto importanti, quello delle donne e dei giovani. Riprendendo le parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il direttore Magarelli ha affermato che per il rilancio dell'economia del Meridione è importante aumentare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle scuole, due risorse da valorizzare per lo sviluppo della Calabria. Daniela Matruda per la Cinews24. Grazie per la Cinews24.